Ciao a tutti ragazzi e benvenuti con la ruota delle figurine ragazzi con questi bei pacchetti da aprirci tramite la ruota della fortuna che ci dirà quale aprire ne apriremo 10 come al solito ragazzi intanto iscrivetevi al canale attivate la campanella scrivete sotto nei commenti la vostra figurina preferita fra quelle che vedrete quest'oggi seguitemi su instagram e su ttok e lasciate subito 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 immediatamente un bel like mi raccomando chi non lo fa non lo so che cosa gli comporterà ragazzi detto questo iniziamo questa ruota della fortuna che sta riscuotendo un buon successo pare che questo questa tipologia di video vi piace quindi andiamo avanti perché va bene così allora siamo pronti giriamo la ruota e vediamo quale sarà il primo pacchetto di andarci ad aprire tra questi bei pacchetti storici oltre poi pacchetti recenti tipo la liga tipo fifa 365 tipo calciatori 2021 2022 prima bustina calciatori 2021 2022 quindi una molto recente apriamo questa prima bustina vediamo cosa c'è fuori e abbiamo soriano tre giocatori del pisa adrian silva sansone ma c'è rimasta messa una figurina sì che è lo stemma lo stemma del genoa queste sono le prime figurine trovate in questo spacchettamento diamo la seconda bustina facciamo girare la ruota vediamo quale sarà la prossima bustina di nuovo calciatori 2021 2022 e prendiamo un altro pacchetto dai e apriamo questo altro pacchetto è il secondo troviamo il portiere polacco del bologna ex roma chier del milan simon chier ex giocatore di palermo e roma nella nostra serie a la coppa italia radu e dragovischi giocatore polacco della fiorentina giriamo di nuovo la ruota vediamo cosa esce fuori questa volta tic 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 ah questa è una bustina di quelle guturiose champions league mamma mia champions league of europe 1955 2005 questa è proprio una bustina di quelle guturiose ragazzi in cui ho trovato la rookie la rookie della champions league di messi di messi e ci sta anche quella di cristiano Ronaldo che ancora non ho trovato vediamo se uscirà fuori l'altra volta sono uscite belle figurine fuori da questo da questo pacchetto vediamo se anche questa orta Heitinga difensore nell'ajax è un bel giocatore questo qua poi che abbiamo Henry con la maglia dell'arsenal Henry mamma mia che giocatore Henry che giocatore Henry poi qui abbiamo una figurina champions league del 1966 67 Sabi Alonso ragazzi un altro grande campione qui abbiamo due grandi campioni ragazzi Henry e Alonso io non so ragazzi scrivete sotto nei commenti qual è la vostra figurina preferita fra queste due ragazzi queste sono due top e le mettiamo da una parte ragazzi perché poi voglio che scrivi sotto nei commenti qual è la vostra preferita però io voglio mettere che si vedono mettiamole mettiamole qui mettiamole qui che si vedono belle belle terzo pacchetto è andato è stato un pacchetto succulento proprio di quelli guturiosi un pacchetto guturioso 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 molto guturioso è stato questo pacchetto vediamo se ce n'è un altro bello guturioso uh abbiamo sfogato la traccia proprio un'altra champions league 155 2005 è l'ultima per quest'oggi ragazzi eh e il quarto pacchetto ci ha due volte di seguito è l'ultima poi dopo ne apriremo delle altre e abbiamo fred dell'ione dell'orno del celsi lam ebbè qui anche parliamo di un altro grande campione del bayern monaco tre se che tre se che e la figurina questa qui speciale con con della roma ragazzi bella molto molto bella beh qui abbiamo veramente ragazzi ci abbiamo trovato giocatori incredibili tre se che sappia l'onso l'em lam cioè lasciamo stare lasciamo stare ragazzi perché veramente tanta roba andiamo giriamo ancora vediamo che troviamo adesso calciatori 2004 2005 anche qui anche queste bustine potrebbero essere molto guturiose vediamo vediamo cosa esce fuori san remese sassuolo mi stemmi chiappara e bellotto sala dell'atalanta vignaroli e maurizio canse con la maglia del modena la formazione del messina cassani e biasi franceschini del chievo verona e russo e croce del pescara ok questa è la quinta bustina andiamo con la sesta andiamo cosa esce fuori dalla ruota della fortuna sesta bustina sarà sud africa 2010 e anche qui può uscire fuori qualche pezzo interessante anche qui può uscire fuori qualche pezzo interessante vediamo cosa esce fuori da qui mezzo stadio kozak lo stemma del brasile yong yo e bugera ok sono quanti sono andati sono andati sei pacchetti quindi andiamo al settimo pacchetto quale sarà in questa ruota della fortuna vediamo calciatori 2014 2015 eccolo qua 2014 2015 avremo questo pacchetto vediamo cosa esce fuori cerri con questa figurina speciale poi troviamo montari del milan carbonero del cesena yang ambigua della roma segnò un gol nel derby yang ambigua poi troviamo tre giocatori dello spezia e andreolli dell'inter ex giocatore anche della roma ok andiamo con l'ottavo pacchetto vediamo cosa esce fuori giriamo la ruota vediamo l'ottavo pacchetto quale sarà di che anno di che tipologia forse c'è ancora calciatori 2004 2005 si 2004 2005 altro giro questa volta non abbiamo trovato granché vediamo se esce fuori qualcosa di interessante adesso troviamo lo stemma dell'inter e già gli stemmi sempre in piacere trovati troviamo lo stemma dell'inter falsini del siena lazari dell'atalanta pianu e bruni lo stadio dell'udinese pisano del cagliari grandoni del livorno e miccoli della fiorentina vabbè miccoli era un buon giocatore però non lo voglio mettere fra i top da votare al termine quante bustine ha aperto 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 andiamo con la nona siamo quasi arrivati al fine di questo video nona bustina nona bustina cosa uscirà fuori fifa 365 2022 si fifa 365 2022 apriamo andiamo cosa esce fuori sanchez e lautaro martinez dell'inter chiacquiri e mendes dell'olimpic lione giorgio chiellini questa figurina speciale stones diaz per quanto riguarda il manchester city e chiesa e chin per quanto riguarda la juventus ultimo giro ultimo giro di una cosa esce fuori calciatori 2014 2015 di nuovo riapriamo ancora questa bustina vediamo se esce fuori la formazione del varese spogli giomber e monzon del catania giorgi del cesena felipe del parma perin con la maglia del genoa e gentili san pirisi e brighenti ok ragazzi per oggi è tutto io vi saluto ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti ciao a tutti